Ringraziamo gli autori di questo regalo. Fortunatamente un po' di gesso va via. La vostra ignoranza vorremmo colmarla invece in un solo modo, invitandovi a venirci a trovare in redazione dove saremo ben felici di spiegarvi chi era Giancarlo Siani. Hanno commentato così i ragazzi del laboratorio giornalistico sociale Paperboy le scritte vandaliche ritrovate sul murale dedicato al giornalista Giancarlo Siani. L'opera realizzata a Salerno dal writer McNenia insieme ad Ahmed era stata inaugurata poco più di un anno fa il 3 maggio del 2023 in occasione della giornata della memoria dei giornalisti uccisi dalla criminalità mafiosa e dal terrorismo. Sul murale sono state lasciate delle scritte che offendono la memoria di Siani ma anche l'impegno sociale, la passione e l'entusiasmo dei volontari della cooperativa Il Villaggio di Esteban promotrice dell'opera realizzata nell'area parcheggio del centro sociale di Salerno. Non è la prima volta che nella città da Rechi un'opera di street art viene deturpata per mano dei vandali. Tali episodi infatti si sono moltiplicati negli ultimi tempi dando un grande schiaffo materiale e morale a tutti coloro che credono nell'importanza e nel significato di tali murales.